One more in the family, marchio spagnolo, ideato e realizzato e prodotto a Barcellona. È una marca che ci è piaciuto moltissimo per il comfort dei prodotti, perché sono comunque morbidissimi e molto confortibili. La linea del piccolino è realizzata in cosone organico, proprio per proteggere quella dei più piccoli. Quindi questo è un completino carinissimo anche proprio da ospedale, con il podino o con l'incrociatino. Con il kimono. One more in the family, è un marchio spagnolo, realizzato da moglie e marito. La loro storia è un po' bellissima, lei era una stilista famosa e poi dal momento che è diventata zia si è appassionata al mondo dei piccoli e quindi è iniziato a realizzare collezioni per i più piccoli. Da lì è diventata mamma di tre figli, quindi un impatto di esperienza. È veramente morbidissimo. Morbidissimo, sì. Le linee sono molto minimali, i colori sono veramente belli, ma per i neutri. Per il piccolino e adesso vediamo. Il pretence che coprono è da 0 a 4 anni, infatti per il più grandicello. Per esempio è un abbinamento molto bello, pensando magari anche alle fertilità, una cosa un po' più elegantina. Per esempio questo abito, gezzato, dietro la fisura con tutti i bottoncini, molto rifinito bene. Belle anche per esempio le maniche a costo, molto particolare. È una maglia di marina, è sempre molto confortevole. Ci si può abbinare con i leggings. E l'abbinamento molto sempre rimanendo a tema magari al maschietto, facendo la coppia. Per esempio c'è questa tarpetta che si può mettere appunto con questo collo alto a righe. Anche qui i tessuti sono veramente ottimi e morbidissimi. Qui abbiamo la tasca. Inverluto. Sì, inverluto. Qui abbiamo i bottoncini. E poi alle caviglie l'elastico morbido che avvolge la caviglia del bambino. Possiamo abbinare sia a questo completo qui, uno stivaletto divertente con l'animaletto orso, è abbottito, questo è del marchio Donzi, disegnato ad Amsterdam. Oppure per il più piccolino ad esempio, una bambucina di Bobux, soft soldat. Sono perfetti anche eventualmente in casa. One more in the family. Questo bellissimo abitino, veramente confortevole e morbido, con due taschine davanti e il dietro chiuso con i tre bottoncini. Lo possiamo abbinare anche questo al bellissimo stivaletto con il dietro del marchio Donzi.